E' stata come ogni anno all'insegna della sobrietà la cerimonia di celebrazione per i 240 anni dalla fondazione del corpo della Guardia di Finanza svoltasi la scorsa settimana nella caserma Angelo Maiorana di Catania. Un momento di grande solennità per l'importante ricorrenza a cui hanno preso parte i rappresentanti di tutte le compagnie, tenenze e unità della provincia etnea. A presiedere la giornata di festa il colonnello Roberto Manna, comandante provinciale delle Fiamme Gialle, che ha colto l'occasione per sottolineare i numeri conseguiti nel corso dell'anno nei vari ambiti di attività, dalla lotta all'evasione fiscale alla contraffazione, dal contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di stupefacenti, solo per citarne alcuni. Il lavoro profuso quotidianamente dai finanzieri, con alto spirito di sacrificio e di abnegazione, ha detto il comandante provinciale, consente spesso in condizioni non facili di ottenere brillanti risultati. Durante la giornata sono stati conferiti anche premi ed encomie ai militari che si sono contraddistinti per le operazioni più rilevanti. Tra queste è Tabula Rasa, l'operazione antidroga condotta dai finanzieri della compagnia di riposto, che ha consentito di smantellare una rete di spaccio di marijuana e cocaina, che alimentava principalmente le piazze di Giardini Naxos e Taormina, con base a Fiumefreddo di Sicilia. Un'articolata indagine è sfociata lo scorso marzo in nove ordinanze di custodia cautelare. Per questo motivo i militari della compagnia, guidata dal capitano Antonino Costa, è stato conferito un encomio.